Nei video precedenti abbiamo visto la costruzione con il Sì impersonale, formato dal Sì più un verbo alla terza persona singolare. Rivediamo degli esempi. In questo ristorante si mangia bene, ad agosto si va in vacanza. È una costruzione impersonale perché il riferimento è la gente, le persone in generale. Non c'è un soggetto specifico. Noterai che in queste frasi non c'è un complemento oggetto, non c'è un oggetto nella frase. L'azione non risponde alle domande chi o che cosa. In questo ristorante si mangia bene, si mangia come, bene, ma non c'è un oggetto. Ad agosto si va dove, in vacanza, non c'è un oggetto. Ci sono altri complementi o avverbi. La costruzione impersonale può avere un oggetto. Ci può essere un oggetto, una persona o una cosa, ma in questo caso la costruzione è chiamata Sì passivante. Guarda questo esempio. A Natale si mangia il pandoro. Che bontà! A Natale si mangia che cosa? Il pandoro. C'è un complemento oggetto. L'azione cade su un oggetto. In questa frase la costruzione è uguale a quella del Sì impersonale. Il Sì, il verbo alla terza persona singolare, ma c'è un oggetto. Si chiama Sì passivante perché è una forma passiva. È come dire il pandoro è mangiato a Natale. Questa è la forma passiva tradizionale. Quando c'è un oggetto nella frase e c'è la costruzione impersonale si chiama Sì passivante perché può essere trasformato nella forma passiva tradizionale. A Natale si mangia il pandoro. Oppure, in questo ristorante si mangia una pizza buonissima. Si mangia che cosa? Una pizza buonissima. C'è un complemento oggetto. Quindi è come dire una pizza buonissima può essere mangiata in questo ristorante. Per il momento la costruzione è uguale a quella del Sì impersonale. Trovi il link al video qui sopra se non lo hai ancora visto. Guarda questo esempio però. In questo ristorante si mangiano piatti tipici della regione. Si mangiano. È coniugato alla terza persona plurale. Mangiano perché... Forse puoi intuire il perché. In questo ristorante si mangia una pizza buonissima. In questo ristorante si mangiano piatti tipici della tradizione. Quando c'è un complemento oggetto il verbo concorda con il complemento oggetto. La costruzione del Sì passivante è quindi formata dal Sì più un verbo alla terza persona singolare se il complemento oggetto è singolare. In questo ristorante si mangia la pizza. Oppure il verbo alla terza persona plurale se il complemento oggetto è plurale. In questo ristorante si mangiano piatti tipici della regione. Quindi abbiamo due opzioni. Verbo alla terza persona singolare o verbo alla terza persona plurale in base al complemento oggetto che c'è dopo. Questa è l'unica differenza rispetto alla costruzione del Sì impersonale dove non c'è un complemento oggetto e il verbo è sempre la terza persona singolare. Non voglio essere ripetitivo ma voglio essere sicuro che tu capisca queste costruzioni. Vediamo tre frasi a confronto. Numero uno In Italia si mangia bene. Non c'è un complemento oggetto. Non risponde alla domanda chi che cosa. C'è un avverbio. Bene. Questa è la costruzione del Sì impersonale. Abbiamo il Sì più il verbo alla terza persona singolare. Si mangia. Bene. Semplice. Seconda frase. In Italia si mangia molta pasta. Qui abbiamo un complemento oggetto. Si mangia che cosa? La pasta. E quindi parliamo di Sì passivante. Il complemento oggetto, la pasta, è singolare e quindi il verbo è alla terza persona singolare. Mangia. Si mangia. Terza frase. In Italia si bevono ottimi vini. Il complemento oggetto vini è plurale. Quindi anche il verbo sarà alla terza persona plurale. Si bevono ottimi vini. Sì passivante con complemento oggetto plurale. Questi sono i casi del Sì impersonale e del Sì passivante. Sono due costruzioni molto simili. Semplicemente quando c'è un complemento oggetto il verbo concorda al singolare o al plurale. Abbiamo fatto esempi al presente indicativo. Si mangia. Si bevono. Che cosa succede al passato prossimo o negli altri tempi composti? Come abbiamo detto nel video precedente, in tutti i verbi e in tutte le costruzioni che includono la particella Sì, nei tempi composti si usa sempre l'ausiliare essere, sempre essere con tutti i verbi. Durante la pandemia si è consumata molta farina. Abbiamo ovviamente il Sì perché è una forma impersonale e intendiamo le persone. Il verbo consumare è al passato prossimo alla terza persona perché si accorda con farina che è terza persona. Inoltre il participio passato consumata è femminile perché farina è femminile. Quindi la costruzione è sempre il Sì più il passato prossimo con il verbo essere e il participio si accorda al femminile perché farina è femminile. Si è consumata molta farina. Nel 2020 si sono comprate meno case. Anche qui abbiamo il Sì della costruzione che intende le persone in generale, il verbo comprare è al passato prossimo e alla terza persona plurale perché case è plurale. Si sono comprate. C'è il verbo essere, sono, e comprate è plurale femminile perché case è femminile plurale. La costruzione quindi è il Sì più il passato prossimo con il verbo essere che può essere singolare o plurale. Dipende dal sostantivo che segue. Facciamo un altro esempio. Vediamo delle frasi che puoi completare tu con il verbo al passato prossimo. Ieri alla festa dire cose terribili. Dobbiamo usare il Sì passivante con il verbo dire al passato prossimo. Il complemento oggetto è cose terribili. Ieri hanno detto cose terribili. Prova. Inseriamo il Sì, quello è fisso, ieri alla festa sì e poi il passato prossimo di dire con l'ausiliare essere. Sono dette cose terribili. Il passato prossimo è la terza persona plurale perché cose è plurale. e il participio dette è femminile plurale perché cose è femminile plurale. Si sono dette cose terribili. Lo so, può essere complicato, ma facciamo degli altri esempi per chiarire meglio. Durante la riunione di ieri, verbo analizzare, molti dati. Molti dati è il complemento oggetto, plurale, maschile. Trasformiamolo nella costruzione Sì passivante al passato prossimo. Durante la riunione di ieri, Sì, il verbo sarà al passato prossimo, con l'ausiliare essere, terza persona plurale, perché dati è plurale. Quindi, Sì sono analizzati molti dati. Altra frase. Se bere molto vino, non bisogna guidare. Questa frase può essere costruita anche al presente. Se si beve molto vino, non bisogna guidare. Ma noi vogliamo questa frase al passato prossimo. Vai! Molto vino è il complemento oggetto. Singolare, quindi il verbo sarà la terza persona singolare, e maschile, quindi il participio passato concorda al maschile singolare. Se si è bevuto molto vino, non bisogna guidare. Prossima frase. Se non, verbo prenotare, la lezione, non è possibile partecipare, o non sarà possibile partecipare. Anche qui possiamo fare la frase al presente. Se non si prenota la lezione, non sarà possibile partecipare. Ma noi la vogliamo al passato prossimo. Il complemento oggetto è la lezione. singolare, quindi il verbo sarà la terza persona singolare, e lezione è femminile. Se non si è prenotata la lezione, non sarà possibile partecipare. Quindi, se una persona non ha prenotato la lezione, non potrà partecipare alla lezione. Lo so, lo so, lo so. Può essere complicato. Ma puoi rivedere questo video, puoi rifare gli esercizi che abbiamo appena finito, e soprattutto puoi scrivere delle frasi qui sotto, nella forma impersonale o nella forma passivante. La costruzione con il sì passivante è una costruzione impersonale con un complemento oggetto, che può essere femminile, maschile, singolare e plurale, e quindi il verbo si accorda di conseguenza. Scrivi degli esempi qui sotto. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se non è chiaro, sarò felice di chiarirlo ancora meglio. Fammi sapere tutto nei commenti, non vedo l'ora di leggerli. Ci vediamo al prossimo video. Ah, e ricordati di iscriverti, se non lo hai ancora fatto. Se clicchi sulla campanella, riceverai una notifica ogni volta che pubblico un video nuovo, così non ne perderai neanche uno. Grazie e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!